Nel giorno in cui la Miternina di Scoppito svela l'organigramma societario, siamo con Renato Sebastiani, massimo dirigente giallorosso. Questo è l'inizio della seconda stagione al timone del club scoppitano. Con quali ambizioni riparte la Miternina e il presidente Sebastiani? Allora sì, da luglio l'anno scorso sono presidente di questa grande società. Sicuramente il Covid ha un po' rallentato il nostro progetto, ma comunque è un progetto ambizioso, quello di andare avanti e di sicuramente creare delle nuove opportunità per tutti i ragazzi, per i giovani e quindi una buona struttura. Le nostre ambizioni per quanto riguarda quest'anno, a livello giovanile sicuramente già sapete abbiamo creato questo connubio con l'Aquila Social School perché vogliamo dare ai giovani delle opportunità importanti per unire le nostre forze e sicuramente dargli delle grosse opportunità. Per quanto riguarda la prima squadra abbiamo scelto il trainer che è candido di Felice e il suo secondo sarà Gianni Padovani. Già parla di per sé che è sicuramente un allenatore che ha della storia dietro e quindi noi vogliamo fare bene, sicuramente punteremo ai playoff. Quindi magari mi ammazzeranno gli altri dirigenti perché magari hanno delle vedute diverse, però noi siamo ambiziosi e vogliamo creare qualcosa di importante. Grazie. Grazie.